Che stai facendo? Sono qua sulla scrivania tua. Stai curiosando sulla mia scrivania? Sto curiosando. Allora, qui è incisa questa. Sì, sì, sì. È incisa, quindi non è un'icona, questa è solo un'incisione. Un'incisione perché se sopra qui c'è la testina laser. Esatto, poi un giorno o l'altro faremo anche un video su quello. Questa qui invece è liscia, liscia, liscia. Cos'è? È una tavola, senti? Dove ancora devi lavorarci, su, devi farla. Ok. Ha la culla qua, la differenza di altri. Ha la culla, sì. E senti come è liscia, indovina come ho fatto a farla diventare così liscia. Con la carta vetrata, ma quella grana fine, fine, fine. Sì, alla fine sì, è liscissima. Questa? Questa qui ricordo che ho finito a giugno con l'aiuto del maestro Ivan. Ok. Quindi è lì per asciugare. Ok. Mentre quest'altra qua? Questa qui l'ho fatta da sola, l'avevo iniziata 4-5 anni fa, quando andavo a Casale, poi dopo l'ho finita. Ah, ok. Il mio anno scorso, qualche mese fa. è San Michele. Questa qui è la madre di Dio col bambino in braccio. E di là c'è un'altra. E questa è tutta ruvida, tutta... Eh sì, perché è ancora da finire. San Michele è quella che sto facendo adesso. Ok. Bene, bene. Va bene. Allora, boh, chissà quando... È curiosato, poi c'è il computer. Ce ne saranno altre. Poi c'è l'incisore laser che... Eh sì, che... Che abbiamo qui. Adesso le fascette perché... Che dovremmo... È trasportato da casa di Gaia fino a qua, allora... Dovremmo attivarlo. Eh, devo... Cioè, dovremmo metterci un pochino lì a studiarci. Ah. Ok. Curiosato, bene. Curiosato, sì. Eh? Va bene. Eh, le mani le avevi pulite che hai toccato tutto qua? Eh, le avevo pulite, adesso magari non le ho più pulite. No, sono pulitissime. No, vabbè. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Curiosone.